Attimi concitati di riserva a Vasto quando intorno alle 23 è andata in fiamme l'auto del sindaco Francesco Menna. È accaduto in una traversa di via Smargiassi in pieno centro città e a due passi dalla villa comunale. Il rogo in pochi istanti ha avvolto il vano motore dell'auto, una Fiat 500L, che era stata parcheggiata dallo stesso primo cittadino a poca distanza dalla sua abitazione. A dare l'allarme alcuni cittadini che si trovavano in zona e hanno visto le fiamme. Tempestivo l'intervento dei vigi del fuoco del distaccamento di Vasto che hanno domato l'incendio e messo in sicurezza il veicolo. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della Polizia di Stato, guidati dal commissario Capaldo con l'obiettivo di verificare l'origine del rogo. Al momento l'ipotesi più accreditata è quella del gesto doloso, ma saranno le indagini a confermarlo. L'auto era parcheggiata in una strada chiusa e poco illuminata. Gli agenti del commissariato, dopo aver raccolto alcune testimonianze, vaglieranno anche le immagini della videosorveglianza del centro storico per cercare indizi utili al fine di rintracciare i possibili responsabili. Intanto dal mondo della politica è stata espressa massima solidarietà al primo cittadino vastese, sia dai consiglieri di maggioranza che di minoranza, oltre che dalla senatore Sigismondi. Tutti concordi nell'affermare che se venisse confermata l'origine dolosa si tratterebbe chiaramente di un gesto vile, criminoso e inaccettabile. Inoltre lo stesso Sigismondi ha ribadito come sia fondamentale mantenere a vasto la procura poiché è un presidio di legalità e si è impegnato sull'obiettivo di puntare ad un rafforzamento degli organici delle forze dell'ordine sul territorio. Proprio in virtù di quest'ultimo punto, nei prossimi giorni incontrerà il ministro dell'interno Emanuele Prisco, con il quale affronterà il problema della sicurezza in Abruzzo e della città di Vasto, territorio di frontiera e confinante con realtà ad alto tasso di criminalità.